Per l'ultimo turno il Matera in casa non va oltre il pari contro il Brindisi 3-3 il finale. L'Ereti nel primo tempo al dodicesimo il vantaggio dei pugliesi con Sireno che supera con un rasoterra l'estremo difensore di casa dopo aver saltato la difesa materana. Risponde Caputo al trentasiesimo, controllo sul lancio di Cardore e palla in rete, quindi in chiusura di primo tempo il 2-1 dei materani ad opera di Oliveira, abile nel dribblare gli avversari e depositare in porta. Nella ripresa, dopo l'errore dal dischetto di Di Gennaro al primo minuto, triplica per i biancazzurri cruciani al sesto su assist di Oliveira, seconda rete ospite al decimo di tedesco da calcio di rigore. Il pareggio Brindisino al ventesimo con Pellecchia sugli sviluppi di un corner, quindi al trentasettesimo nuovo errore dal dischetto dei materani questa volta con Caputo. Biancazzurri che ci provano, tra l'altro con l'uomo in più per l'espulsione di Mbdup, colpiscono il secondo palo di giornata ma non riescono ad andare più in gol.